Ciao a tutti quanti ragazzi, come state? Bentornati in questo nuovo video di magia sul canale. Oggi vi vado a insegnare un gioco di magia di quelli della serie dei giochi automatici, quindi che non serve abilità, ma questo al contrario degli altri, fidatevi, spacca più di tutti, cioè è veramente una mina e non ha bisogno di alcun tipo di manualità, adesso lo vedremo insieme. Vi volevo ricordare che questo fine settimana, cioè il 5-6 ottobre, sarò anche io il raduno di ASSO-K, per cui sarà possibile appunto incontrarci tutti quanti, fare magia tutti insieme. E oggi andremo a utilizzare il mazzo di nymph che ho aperto, devo dirvi che è spettacolare questo mazzo di carte. Ragazzi, vi lascio il link in descrizione se vi interessa acquistarlo, col codice SBARD avrete sempre il solito sconto. Vi ricordo prima di incominciare di seguirmi su Instagram come sempre, link in descrizione SBARD95, non ci dilunghiamo per niente oggi e andiamo a imparare, questo gioco secondo me è formidabile. Mi raccomando, lasciate tantissimi mi piace se volete che continui questa serie dei giochi automatici, però non quei giochi automatici che sono troppo basilari e magari quindi non piacciono, non rendono abbastanza, di questi giochi che sono molto potenti ma altrettanto semplici. Fatemi sapere e niente, via col video ragazzi! Eccoci qua ragazzi, allora oggi vi mostro un gioco che secondo me è davvero una mina e soprattutto la cosa particolare, come vi ho già detto, è che è un gioco praticamente automatico. Dopo ve lo insegno, ora ve lo faccio vedere. Allora è un gioco che si basa sul poker. Sul poker perché ve lo spiegherò a breve, ma per prima cosa andiamo a fare e a dare una rapida mescolata al mazzo di carte, perché sapete in ogni partita di poker che si rispetti o in ogni partita che preveda l'utilizzo di una mano di poker è ovvio miscolare le carte. E poi guardate, vado a prendere anche la prima e l'ultima carta del mazzo e le levo, in questo modo le butto in mezzo perché potrei averle viste in qualche modo e sapete non si sa mai quando si gioca a poker è abbastanza pericoloso se si trova gente strana e vede che barate potrebbe finire male. Dopodiché vado a prendere il mazzo di carte e questo lo può fare anche lo spettatore e gli chiedo di tagliarlo in questa maniera e poi di tagliarlo nuovamente un'altra volta, come vuole lui. Questo procedimento lo può fare a suo piacimento. E poi gli chiedo di andare a prendere e a chiudere tutti quanti i mazzetti per poi andare a stendere le carte e a notare che c'è una porzione di carte di dorso. Una porzione di carte di dorso che è stata scelta da lui perché è lui che ha tagliato e ha fatto tutto. E questa qua sarà la porzione di carte che andremo a tenere per il nostro effetto. Quindi lui ha deciso praticamente quale fosse questa porzione. Dopodiché quello che andiamo a fare è effettuare una mano da poker o meglio una mano da poker ipotetica andando a stendere queste appunto carte che sono state scelte dal nostro spettatore in 5 mazzetti. In questo modo prendo e vado avanti a formare quelli che sono i 5 mazzetti di questa ipotetica mano da poker. Ma sapete qual è la cosa assurda ragazzi? Che se noi schiocchiamo le dita in questo modo e andiamo a controllare lo spettatore si troverà davanti ad un full ovvero 3 assi e 2 re. Una mano davvero vincente. Però sapete qual è la cosa ancora più incredibile? Che noi siamo i maghi e se quindi schiocchiamo le dita andremo a vincere questa finta partita di poker con una bellissima scala reale di picche. Come potete vedere 10 jack q re e assi. Ok ragazzi andiamo a imparare questo miracolo che come avete visto è davvero davvero d'effetto e richiede pochissima tecnica e giusto una piccola preparazione semplicissima. Allora per prima cosa ci servirà un full che come sapete nel poker è costituito da 3 carte uguali più un'altra coppia di carte uguali. In questo caso il full più alto che sono i 3 assi accompagnati da una coppia di re. Ve li preparate in questo modo e li lasciate qui sul tavolo. Dopodiché ci servirà una scala reale. In questo caso una scala reale di picche cioè con l'asso mancante da questo tris e poi tutte quante le carte di picche a scalare fino ad arrivare al 10. In questo modo è una scala reale di picche. Questa scala reale di picche così in questo ordine esatto ricordatevi va posta in cima al mazzo di carte quindi niente di più semplice. Quest'altra invece combinazione di questo full va posta in fondo al mazzo girato di faccia. Quindi niente di più facile. la preparazione del full in fondo al mazzo l'altra in cima. Questa girata nel senso di tutte quante le carte l'altra girata in senso opposto. A questo punto ci sarebbe una problematica cioè che se mostriamo il mazzo di carte qui si vedono due dorsi e questo creerebbe ed esterebbe dei sospetti non indifferenti nei rispetti dello spettatore. Per questo si prendono poi altre due carte a caso e le si mettono una in fondo e una in cima in modo tale da dare l'idea poi che il mazzo sia un normalissimo mazzo di carte non preparato. Poi utilizzeremo la scusa che avete visto nel video per andarla a rimuovere. Quindi questa è la preparazione. Carta normale in fondo, preparazione di full, carta normale e preparazione in cima. Fatto questo potete incominciare. Fate, dite al vostro spettatore che farete un miscuglio, utilizzate il miscuglio che volete, fate un falso taglio, utilizzate appunto un miscuglio sul tavolo. L'importante è che lasciate cadere un po' di carte, buttate dentro le carte centrali e poi lasciate cadere le carte in cima in modo tale che rimarrà inalterata ovviamente la vostra preparazione in cima al mazzo come rimarrà inalterata la vostra preparazione in fondo. Quindi ricordate bene, è importante fare un miscuglio che mantenga inalterato l'ordine del primo blocco e dell'ultimo blocco. Va benissimo appunto anche un'americana lasciando però e prestando attenzione a questo dettaglio. Una volta fatto questo dite allo spettatore sì però guarda io potrei aver visto l'ultima carta come potrei aver visto la prima e si sa nel poker è meglio non barare mai. Quindi le prendo e le butto nel centro. In questo modo avete utilizzato una scusa ottima e che ha senso e avete fatto sì che la vostra preparazione non fosse vista fino a questo momento e nemmeno adesso si vedrà perché quello che dovrete fare è lasciare il mazzo sul tavolo e dire allo spettatore di andare a tagliare un numero di carte che vuole e girarle rispetto alle altre sul tappetino. Da questo momento in poi ragazzi il gioco è completamente automatico ecco perché è una bomba perché lo spettatore girerà una porzione di carte poi gli dite di prendere una porzione da questo mazzetto ricordo dal secondo e di girarle ancora e poi in ordine dal primo verso l'ultimo di chiuderle. Una volta fatto questo ragazzi cosa succederà? Dovrete semplicemente girare il mazzo e dire di andare a prendere la porzione centrale delle carte di dorso. ricordatevi di girare il mazzo perché se non lo girate e le stendete da questa parte si vedrà la preparazione perché con questo metodo dei miscugli dei tagli ribaltati avete fatto in modo di unire la porzione iniziale della preparazione a quella finale insomma avendole tutte quante girate nello stesso verso. Quindi ricordate una volta che avete chiuso vi basterà girare e dire di andare a prendere casualmente la porzione di carte rimasta di dorso che sarà casuale tra virgolette perché lo spettatore penserà che lo sia visto che è lui che ha tagliato. Prenderete questa porzione dicendo che le altre carte a questo punto non vi serviranno più e quello che vi rimarrà da fare è semplicemente stendere una pila di 5 carte sul tavolo come se fossero una mano da poker in questo modo 1, 2, 3, 4 e 5 e continuare in questo modo fino a quando non avete terminato le carte nelle vostre mani. Seguite l'ordine e non preoccupatevi perché a questo punto vi basterà con la presentazione e uno schiocco di dita mostrare le carte e ritrovarvi con ovviamente il vostro full cioè tris di assi con re e poi però con uno schiocco di dita ancora più magico girando queste carte vi ritroverete di fronte a una scala reale di picche il punteggio maggiore che si può ottenere e di conseguenza la vittoria tra virgolette. Ok ragazzi io direi di non dilungarmi troppo perché come avete visto il gioco è semplicissimo quindi vi basterà eseguire le istruzioni che vi ho dato e il gioco vi verrà in automatico. Spero che vi sia piaciuto lasciate tanti mi piace se volete altri video simili un gioco bomba che potete fare con una piccola preparazione e zero abilità quindi magari se siete agli inizi è perfetto. Fatemi sapere quindi se vi è piaciuto lasciate un commento fate quello che vi pare noi ci vediamo alla prossima con un prossimo video. Ciao ragazzi! Ciao! 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 Grazie a tutti.